...a, tam, stanto, creca... Il ramarico più grande è per lui, perché lui sa che ha delle difficoltà, lui si rende conto che non riesce a fare come gli altri e quindi questa cosa viene fuori. Lui è Davide, 12 anni, il figlio speciale di Stefania, che ha altri due gemelli di 14 anni. Davide è nato con una malformazione cerebrale complessa, che è stata scoperta dopo la nascita, quindi nessuno si aspettava questa cosa. Davide ha bisogno di un aiuto molto importante a scuola, nel senso che lui ha un ritardo cognitivo, quindi non è al passo con i compagni. Davide ha un programma che non è in linea con quello dei compagni, per cui ha bisogno di una semplificazione costante di quello che fanno gli altri e su alcuni aspetti ha proprio un programma completamente diverso, perché i suoi tempi sono molto allungati. Quest'anno non ci sono i docenti di sostegno, non si sa quando arriveranno i supplenti, non riesce a seguire le lezioni come i compagni, fa quello che può, in attesa, non si sa quando, non si sa per quanto. Incentrata. Lui fa tante domande, in questo momento non ho risposte per lui.